Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Questa è la nuova puntata di Libri Isterici e parliamo di My Life on the Road di Gloria Steinem. Come saprete questo è il primo libro nel gruppo di lettura di Emma Watson che ha lanciato recentemente su Goodreads e è stata un po' criticata per aver scelto questo libro perché è stato giudicato non abbastanza intersezionale perché è scritto da una donna bianca, perché appunto rappresenta solo un tipo di femminismo. In realtà io a lettura ultimata non mi trovo così d'accordo con queste accuse. Certo è chiaro che qualsiasi tipo di femminismo è un tipo di femminismo, cioè ogni donna, ogni persona scrive da un proprio punto di vista. Però non avendo mai letto nulla della Steinem è stato molto interessante per me partire da questo libro. Come suggerisce il titolo si parla della sua vita come attivista e giornalista ma anche volontaria in campagne per la raccolta fondi e quindi una vita passata essenzialmente viaggiando. Però non ci si ferma solo qui, non si si limita a parlare di quello che è l'esperienza di viaggio in sé anche se secondo me è un argomento interessantissimo perché mi piace molto viaggiare, mi piace leggere narrativa di viaggio. Però qua si parla più che altro di come questa vita appunto sempre sulla strada l'abbia portata anche a tante altre esperienze, soprattutto per quanto riguarda appunto il femminismo e l'uguaglianza di genere. La Steinem quindi qui ci descrive un po' quella che è stata la sua vita. Da quando era bambina il padre metteva su tutta la famiglia in macchina e decideva che dovevano viaggiare e vivere così appunto sulla strada senza essere troppo fissi, a quando invece è finita l'università, parte per l'India dove rimane per parecchi mesi. Questo tra l'altro è il famoso libro dove la dedica è per un medico inglese che proprio qualche tempo prima che la Steinem partisse per l'India la fa abortire sotto sua richiesta anche se all'epoca in Inghilterra non era ancora consentito l'aborto che non fosse per cause biologiche, insomma per cause mediche. E appunto questo medico capisce che lei ha preso questa decisione anche abbastanza dolorosa perché si è lasciata con il suo promesso sposo diciamo e lui le dice promettimi che uno non dirai a nessuno il mio nome perché chiaramente la cosa che sta facendo è illegale e in secondo luogo che vivrai la tua vita al meglio. E appunto secondo me è anche molto toccante come dedica. Il punto qui però non è solo parlare di questioni come l'aborto o l'uguaglianza di genere in maniera, come dire, soltanto generica o accennata. Secondo me lei fa un ottimo lavoro nel, in un certo senso, esporre tantissimi aspetti del femminismo con il vantaggio di aver scritto un libro che è un memoir. Quindi secondo me Emma Watson ha fatto bene a scegliere questo libro come punto di partenza perché nonostante io non sia un'esperta perché non è che abbia fatto mai studi di genere. Sono solo una persona interessata all'argomento e mi rendo conto che ci sono alcuni testi di non fiction sull'argomento del femminismo che possono risultare comunque impegnativi, ecco non sono letture proprio di svago. Quindi secondo me la scelta di partire da un testo come questo che comunque è facilmente leggibile, però al tempo stesso tratta vari aspetti importanti del femminismo perché io ad esempio ho trovato che lei parli molto di donne di colore, donne native americane, donne latinoamericane, si sofferma molto su argomenti che vanno oltre il cosiddetto femminismo bianco che è stato tanto criticato anche a Emma Watson. Quindi penso che possa essere un'infarinatura generale molto interessante. Non solo, ma lei ancora adesso è a tipo più di 70 anni, continua ad essere un attivista e continua a fare quello che ha sempre fatto. E tra l'altro ovviamente io sto rosicando tantissimo perché ci sarà un incontro a fine febbraio qui a Londra con Emma Watson e appunto la Steinem e ovviamente i biglietti sono nati sold out in tre secondi, ma vabbè. Dicevo, è una lettura molto interessante, piacevole, ma a tratti anche illuminante. Io ad esempio ho scoperto cose di cui non avevo proprio alba, come ad esempio il fatto che la Chiesa Cattolica fosse a favore, in un certo senso, dell'aborto, che anzi lo regolarizzasse in un certo senso, o che i preti fino al Medioevo, adesso non ricordo bene che anno, potessero sposarsi e avere figli. Ho ancora imparato tantissime cose sui cosiddetti indiani d'America, sui nativi americani. Quindi penso che la scelta di questo libro sia stata oculata. Chiaramente è uscito da poco perché è uscito nel 2015, quindi non è una pietra miliare ancora per quanto riguarda la letteratura sia di prosa che di non fiction femminista, però secondo me, soprattutto se si è profani dell'argomento, può essere un ottimo punto di inizio. E adesso sono molto curiosa di, invece, cominciare il libro successivo per il mese di febbraio, perché ce l'avevo già e non l'avevo dovuto comprare, che è Il colore viola di Alice Ward, perché tra l'altro viene anche citata qua. C'è anche una foto perché si conoscono. Adesso la trovo e ve la faccio vedere. Ecco. Quindi, niente. Non so, non ho controllato se sia in programma una traduzione. Avevo guardato, mi sembra, un mesetto fa e non avevo trovato notizia a riguardo. Però sono fiduciosa che, insomma, considerando anche l'attenzione che ha ricevuto grazie al gruppo di lettura di Emma Watts, nel fatto che sia uscito veramente da poco in lingua originale, voglio dire che prima o poi arriverà anche in italiano. Se lo avete letto, ovviamente, sono curiosa di sentire cosa ne pensate. E se avete qualche altro suggerimento per video successivi, fatemi sapere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.